Buon viaggio a tutti, adesso ci allineiamo più sotto, una altra cosa che voglio dire, siccome io faccio la fotografia del regno del Carlino, io mi depotre male, prima di un rinno che è scendendo, non avverete, si prepara un pianino, tutti raccomando che fanno un lavoro, che quello è un lavoro, ma non è un'amministrazione del Carlino, poi la fotograffiamo la fotograffiamo, mi raccomando, assolutamente il piano che è in Italia, attenti, non salve il primo, voglio dire, se è qualcosa, non l'idea.